Mentre il sole sorgeva su Windsor, un mormorio crescente aleggiava tra i sudditi. La principessa, da tempo lontana dalla scena pubblica a causa del cancro, si preparava a tornare. C'erano stati sussurri di un miglioramento nelle sue condizioni, ma nulla poteva preparare il pubblico a vederla tornare raggiante come sempre. La loro attesa terminò con una cerimonia molto attesa al Trooping the Color di giugno. In quella giornata, nonostante i mesi difficili, La principessa del Galles emanava un'aura di serenità, circondata dalla sua amata famiglia. Dietro i sorrisi e l'eleganza della principessa, i presenti notarono un'altra figura che emerse con una presenza sorprendente, la giovane Charlotte. La piccola, con una maturità che impressionava chi la osservava, sfoggiava un legame forte con i suoi fratelli George e Louis, proteggendoli e guidandoli con amore fraterno. Durante le celebrazioni, Charlotte si distinse non solo per la compostezza, ma anche per la sua tenera autorità. Mentre la banda suonava l'inno nazionale, il mondo vide il suo volto dipinto di orgoglio. Proprio quando il momento sembrava aver raggiunto il suo apice, l'attenzione si spostò su Louis, il vivace beniamino della famiglia reale. Preso dalla musica e dal mare di gente, il piccolo non resistette e si mise a ballare, provocando gli sguardi teneri e divertiti di sua madre Kate. Poi, con la naturalezza dei bambini, fu colto da un irresistibile sbadiglio proprio mentre il protocollo richiedeva attenzione. Fu lì che Charlotte, con un gesto rapido e deciso, riportò il fratello all'attenzione delle celebrazioni, ricordandogli il momento solenne. Mentre il pubblico si dileguava e i riflettori si affivolivano. Una cosa era chiara. La principessa, pronta a gettarsi nuovamente nelle sue amate attività benefiche, aveva trovato un sostegno indispensabile nella sua giovane e matura figlia. E quando finalmente tornerà a dedicarsi al lavoro, quegli occhi che la seguiranno lo faranno colmi di speranza e ammirazione, pronti a essere testimoni del rinvigorito legame tra la madre e la figlia.